Parte la terza edizione del progetto Pane Internet in Piedemontana Parmense. Dopo il successo dei primi due anni che hanno visto la partecipazione di oltre 430 persone, i cinque comuni coinvolti ripropongono nel 2017 altri 12 corsi di alfabetizzazione digitale per tutti i cittadini desiderosi di acquisire competenze di base sul web e la navigazione in internet. I corsi si svolgeranno in tutti i comuni dell'Unione e saranno divisi in due livelli, il primo per principianti assoluti e il secondo per chi possiede già qualche nozione di base sia nella navigazione web che nell'uso della posta elettronica. Il via è previsto per il prossimo febbraio, i corsi di primo livello sono assolutamente gratuiti, per gli altri c'è un'iscrizione di 50 euro. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all'ufficio Pane Internet dell'Unione Piedemontana presso il comune di Felino o al sito della stessa Unione Piedemontana.